Siamo a Paglietta e questo è il ponte di Guastaconcio ad un anno circa dalla chiusura definitiva e stiamo con il sindaco Ernesto Graziani. Questo è un ponte importante perché non collega solo due parti del comune di Paglietta ma due aree importanti. Sì, ha detto benissimo. Come mi capita spesso di ripetere, questo è un ponte che non collega semplicemente due sponde ma collega due aree importantissime per l'intera regione Abruzzo ma io direi per l'intero centro-sud Italia perché nella parte meridionale, cioè quindi dall'altra parte del ponte rispetto a dove ci troviamo in questo momento, c'è la zona industriale che è il cuore economico dell'Abruzzo e del centro-sud Italia. E quindi questa è la rilevanza di questo ponte ma non solo. È importante ricostruirlo e ricostruirlo rapidamente perché c'è un'intera economia che dipendeva dalla presenza di questo ponte, dal transito delle centinaia di migliaia di persone che percorrevano questa strada. Parliamo dell'iter per rimettere in funzione questo ponte. A che punto siamo? Siamo in conferenza di servizi. La conferenza di servizi che è stata indetta dalla provincia che è l'ente proprietario nonché ente appaltante quanto prima, io mi auguro, ha una durata prevista dalla legge e indicata nel provvedimento istitutivo della provincia che è di 60 giorni. I 60 giorni andranno a scadere il 25 gennaio dopo la scadenza di questo iter della conferenza di servizi che altro non è se non l'incontro tra tutti i soggetti portatori di interessi i quali potrebbero avere appunto un qualche interesse a dire la loro sul progetto definitivo che è stato comunque depositato. Questo è capitato ad esempio credo 15 giorni fa da parte del genio civile il quale ha sollevato la necessità di ottenere dei dati ulteriori rispetto a quelli che comunque erano già presenti nel progetto. Questi dati molto tempestivamente sono stati forniti al genio civile e di conseguenza può ritenersi soddisfatto. Lei sta sollecitando anche con la lettera sollecitato. Il progetto cosa prevede per questo ponte? Il progetto prevede la realizzazione appunto di un ponte con un solo pilone centrale e due camminamenti ciclopedonali posti ai margini lateralmente da un lato e dall'altro del ponte. Fate in fretta perché c'è un'economia, ci sono famiglie il cui benessere e la cui economia dipende da questo ponte.